Benvenuti e bentornati all'ascolto dei miei audio su Jeff VIP 2021. Se trovate i contenuti di vostro gradimento vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle ultime news. Sto facendo qui una carrellata dando una descrizione seppur breve degli partecipanti di questa edizione e del loro ingresso nella casa. A seguire dopo Raffaella Fico è arrivato Aldo Montano, loro schermitore di Livorno che ha partecipato anche a Tokyo 2020, è stata la sua quinta olimpiade e ultima perché poi si è ritirato dalla scena e dove ha vinto la medaglia d'argento nella sciabola maschile a squadre. Il suo ritiro dalle competizioni però è dalla pedane dello schermo e è dovuto probabilmente alla sua età perché ha raggiunto ormai 42 anni. È sposato con la bellissima Olga e ha due figli. Di lui per adesso non sappiamo niente di più, comunque ha una bella presenza, diciamo socievole, educato. Vediamo come si dimostrerà poi durante la permanenza al GF. Dopo lui, dopo di questo dia di Aldo posato, tranquillo e sereno, è arrivato invece con grande forza il ciclone dall'Etiopia. Si tratta delle tre sorelle che si definiscono le principesse romane, le princesse, Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassie. Loro dicono di essere discendenti della dinastia di Salomone e entrano apertamente nella casa in cerca di bonazzi con il quale avere un'avventura. A parte la sorella più grande che avrebbe 29 anni che lei cerca invece l'amore e vorrebbe oltre al ragazzo bello, anche ragazzo intelligente, capace insomma di farle vivere qualcosa di più. Insieme a Trio, mentre erano lì fuori e stavano aspettando, diciamo l'ok da parte di Alfonso per entrare, l'ha raggiunta anche Alex Belli, è arrivato a bordo della sua moto, 60 cavalli. Alex ha dichiarato di essersi sposato da poco con una donna molto forte e intelligente e ha detto che proprio conoscendo la nuova compagna, la nuova moglie, non si azzarderà assolutamente a dare relazioni o a fare commenti ad altre donne insomma, in modo di non andare a urtare, a ferirla per evitare che la si possa presentare in casa in maniera anche piuttosto burbera. Le tre sorelle sono state invitate comunque da Alfonso a porre una domanda ad Alex Belli e subito l'hanno stuzzicato chiedendogli se tu sei sposato ma tradisci? Lui chiaramente ha risposto assolutamente no, purtroppo però noi sappiamo dalle storie precedenti che Alex è un traditore a vita. Poi vediamo, magari può darsi che con questa moglie abbia messo la testa a posto, anche questo avremo voto di valutarlo durante la sua permanenza nel GF. Dopo di loro sono arrivati Francesca Cipriani accompagnata da Mediagoria. Francesca è sempre molto esuberante, si conosce, si sa com'è però è comunque di fondo una ragazza tranquilla. Sono passati 20 anni da quando è entrata al GF dove ha partecipato per la prima volta e che gli ha dato la visibilità e il successo di cui ancora oggi praticamente ne guadagna, se ne avvale e insieme appunto a Mediagoria. A Mediagoria che vi ricordo è l'ex marito di Maria Teresa Ruta. Francesca Cipriani è stata a parer mio presa in giro, io userei anche il termine bullizzata da parte di Alfonso Signorini che pur sapendo che lei soffre di vertigini l'ha in un certo senso obbligata a salire su un'altalena dove veniva alzata, che veniva alzata questa altalena di circa 120 metri. Francesca ha reagito inizialmente opponendosi e con i suoi modi di fare, le sue urla, insomma che la caratterizzano ecco, però è anche vero che alla fine essendo una persona molto tranquilla si è praticamente stata al gioco e è salita sull'altalena. Per conto mio ha sbagliato perché avrebbe dovuto imporsi, non si può obbligare una persona che si sa che soffre di vertigini a salire su un'altalena e portarla a una determinata altezza. È anche vero che a un certo punto poi hanno deciso di abbassarla, però è stata tenuta più di un'ora su questa altalena. Ecco, questo mi è sembrato veramente un episodio molto brutto da parte di Alfonso Signorini. Veramente per me non è accettabile che in una trasmissione televisiva o in un programma una concorrente possa essere sottoposta, definiamola così anche, a una certa sorta di tortura. Per quale motivo? Cosa ha fatto lei? Ma non è la prima volta che succede questo a Francesca Cipriani, al di là che possa essere simpatica o meno, diciamo che gli atteggiamenti che hanno nei suoi confronti li trovo discriminatori davvero. A Mediagoria ha fatto il suo ingresso più impante, ha addirittura dichiarato che nonostante sia fidanzato, sia stato perlomeno fidanzato fino adesso con una ragazza più giovane di lui di 31 anni, prima di entrare nella casa ha preseso che la loro storia venisse sospesa. Questo da intendere che lui abbia desiderio anche di nuove avventure e non voglia quindi avere nessun obbligo nei confronti di lei che è all'esterno. Vi ringrazio per l'ascolto di questo audio e vi invito ad ascoltare i prossimi dove continuerò a parlarvi degli altri concorrenti. Grazie.